Buongiorno amici miei bellissimi, con voi è sempre Olga e vi auguro felicità, amore e gioia. E oggi, oggi, ultimo giorno, nostra bella acqua gym in bagno valena e da domani chiudono tutte queste bellissime piscine. Però meno male come è ancora bello caldo e possiamo andare al mare, possiamo andare al mare e prendere il sole anche senza l'ombre, l'ombre ragazzi, perché ora sole proprio è carezza, carezza, che bella questa sola italiana. Ho parlato con miei parenti in Russia già più 15 gradi, freddissimo già. Invece in Italia possiamo prolongare questa bella stagione di mare, stagione di sole e stagione di felicità, perché ieri abbiamo festeggiato l'ultimo giorno di acqua gym con il nostro grande Emanuele. E abbiamo fatto can-can e lei è entrata insieme con noi in piscina e abbiamo fatto un bel divertimento. Perché noi, in anima nostra, come forse bambini, perché tutti vogliono divertire. Divertire perché anche ora non c'è più discoteche, sono tutte chiuse e questa acqua gym proprio salvata a noi è tutta estate, perché dentro di acqua, dentro questa bella piscina con acqua di mare, abbiamo fatto discoteche, ragazzi, che bellezza. E poi siamo stati con questa grande amicizia, perché anche 15, anche ogni tanto 20 persone siamo stati in piscina. E poi alla fine un po' tristezza quando finisce questa estate. Vabbè, però voglio dire felicità per essere felicità per essere felicità, ci vogliamo pochissima. Un bicchiere di vino, una panina, felicità, o fare acqua gym e fare discoteche nell'acqua, o andare a camminare sul mare, o prendere, diciamo, aperitif con i suoi amici, o andare in vacanza da qualche parte. Ora, in vacanza, prendiamo Italia, perché con questo coronavirus, guardandosi bene, Italia è perfetta per fare la vacanza. Io spero che non faccio vacanza a novembre, vado in Russia, perché mia mamma festeggia 80 anni e voglio vedere anche i miei bimbi, anche i miei figli, anche i miei nipotini. Per questo pure ci vuole, però là fa freddo. Ora godiamoci ancora l'estate, godiamoci questo bel sole, godiamoci questo bel mare. E state felici, ragazzi, state felici con un sorriso, con un raggio di sole, con un'acqua di mare, con una bella passeggiata, con un bicchiere di vino e un panino. Vi adoro! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.